Di sopra, padre, presto! Da questa finestra puoi vedere la navetta di Sinclair, padre. Rappresenta la nostra unica speranza di fuga. Da quello che so di Sinclair, non l'abbandonerebbe mai. Sì, Delta. Che fine ha fatto Sinclair? L'uomo che avrebbe venduto il paradiso. E adesso dov'è? Attenzione! Coprifuoco di sicurezza attivo. Tutte le celle e le paratie sono chiuse fino a ulteriore comunicazione. Questa struttura si erige sopra una fossa oceanica, Delta. I miei familiari hanno attivato cariche a tempo nelle fondamenta. Arrenditi prima che esplodano o verremo tutti ridotti in polvere nell'abisso sottostante. Mia madre ha isolato tutto Persephone, compreso il percorso che porta alla navetta. Possiamo annullare l'isolamento dall'ala detentiva se ci sbrighiamo. Forza! Usa il plasmide se hai bisogno di me, padre. Io do un'occhiata in giro. 666, cazzo! 666, cazzo! 766, cazzo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Norlem si è rivoltata contro la sua gente. Alzatevi e combattete, o la famiglia di Raptor cadrà tutta insieme. Grazie a tutti. 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 Dobbiamo portarti via da Raptor, padre. Adesso è l'unico modo per salvarti. Avvio sequenza di amministrazione. Delta, non riconosci Sinclair? Ora è quello che avresti dovuto essere tu. L'ultimo della serie, l'ultimo della serie alfa, pronto a morire per la famiglia. in qualità di amministrazione. In qualità di ex proprietario del Persephone è l'uomo ideale per rinchiuderti in gabbia. mia madre sta controllando Sinclair, padre, ed è lui che ha la chiave principale. Ragazzo, la lamb mi è entrata in testa. non riesco a... non riesco a parlare. Non riesco a... anche solo a parlare, è una lotta. Mi ha lasciato la lingua per farmi rivelare i codici della bomba. Vuole che ti impedisca di andartene. Io... mi dispiace. Non riesco a... 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 M-m-m- WAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH questo posto è l'emblema della disperazione siamo qui rinchiusi e separati dal mondo esterno sospesi su un abisso senza possibilità di scappo e qual è l'accusa ryan non ammette divergenze di opinioni nella sua preziosa raptor spero che questo posto di crolli sul gruppo siamo solo amici idiota so che riesce a sentirmi mi trovo all'interno della navetta di sinclair delta non può raggiungermi qui ma tu sì non è necessario che tu muoia insieme a lui torneremo in superficie io e te se solo entri e accetti di compiere il tuo dovere ricorda eleanor la mamma ti vuole bene ah sì mia madre mi sta mettendo alla prova un ultimo gioco per fortuna ormai sono la più grande esperta al mondo nel violare le sue regole ho compiuto la mia scelta padre se necessario morirò per essa non è necessario non è necessario una situazione Ragazzo, mi dispiace. Ti ho bloccato qui. La Lamb mi controlla come una marionetta. Non riesco a fermarmi. Dovrai venire qui a... abbattermi. Vorrei tanto che ci fosse un altro modo, ma preferisco morire da uomo che vivere così. Ti direi il codice che serve per quel... quel tastierino, se solo potessi. È come se la Lamb mi avesse eretto delle pareti in testa. Ma i prigionieri di qui potrebbero aver scoperto il codice. Controlla nelle celle e fai in fretta. È doloroso parlare senza senso. Comincio già a dimenticare le parole. Cielo, ha ragione, padre. Mia madre scommette che morirai qui o che ti abbandonerò prima che le bombe esplodano. Ormai non possiamo salvare Sinclair, ma ci serve la sua chiave. Trova il codice della torre di osservazione oppure un modo per attirarlo fuori. Sei nella galleria. Dovrebbe farti avvicinare a me. Spero. Figliolo, ho costruito io questo posto. E io ti ho condannato a quegli esperimenti con i plasmidi di Fontaine. E ora sto pagando per ciò che ho fatto. Vorrei aver avuto la possibilità di rimediare. Prendi la navetta. È tutta tua. Ma non lasciarmi qui così.